Ancora tentativi di accedere ai servizi degli uffici postali e del territorio senza il certificato verde, doppio intervento dei carabinieri da Valdengo a Salussola. Litigio, quindi, all'ufficio postale di Valdengo per un cittadino che voleva riscuotere il reddito di cittadinanza pur essendo sprovvisto di Green Pass. Alla fine tutto si è risolto prima dell'arrivo dei carabinieri in quanto l'impiegato ha spiegato all'utente che per accedere era sufficiente il tampone negativo. In un primo momento il cittadino si era alterato in quanto pensava che per accedere dovesse per forza farsi inoculare il vaccino. Ed ancora un altro episodio simile anche a Salussola, in questo caso la rissa verbale è scoppiata perché una donna di 31 anni voleva ritirare un pacco pur essendo sprovvista del Green Pass. Anche in questo caso sono stati chiamati i carabinieri. Il problema è stato poi risolto in quanto la donna ha accettato di delegare al ritiro un'altra persona munita di certificato verde che le ha poi ritirato il pacco.